Va detto peraltro che questo è un progetto tutto trentino nato su idea e ideato poi concretamente dal CONI Trento. È un progetto che vuole arrivare ai ragazzi delle scuole, ai più giovani, per far capire loro come lo sport è sì l'attività sportiva collegata alle varie discipline, ma è anche movimento nelle semplice passeggiate, camminate che tutti i nostri ragazzi possono fare quotidianamente.